Corri ragazzo laggiù, vola tra lampi di blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Perché tra tutti i simboli dell'animazione giapponese anni 70-80 avete scelto assieme agli sceneggiatori proprio Jigrobo? Innanzitutto sono almeno quelli che ce ne sono diversi, però quelli che ci sono un po' rimasti nel cuore sono Mazinga, Goldrake e Jigrobo. Però l'unico che non guida il meca ma è il meca è Hiroshi Shiba che si trasforma nella testa del robot e c'è una persona che gli lancia i componenti. Che è? Miwa! Luca, dimmi, fammi un attimo una disamina su questo zingaro. È più matto di me. Non vola a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. Taglia ragazzi tutti insieme e come ricordarlo? Ora non sono una signora, una con tutte selle nella vita. Non sono una signora, non sono una signora. Hai vinto un David, te lo ricordi? Ho vinto un David, sì sì sì, me lo ricordo bene. Li abbiamo metabolizzati, chi lo sa? Sì, è bello. Anche quella ha una potentissima emozione. Io il David non l'ho gustato tantissimo. Non ci abbiamo avuto, non dico manco il tempo, l'ho preso e l'ho messo in là. Poi stavo veramente muovendoci come dei pazzi. Vai a Napoli, va a Milano, adesso partiamo con Claudio e andiamo a Tokyo. Ieri Claudio me l'ha preso, stavo mangiando il giapponese a casa e mi ha detto guarda quanto è bello Davide. E abbiamo iniziato a dialogare con i due Davide. Ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, no, io non vedo più la realtà, né quanta tenevezza ti ha la mia incoerenza. Pensare che vivresti benissimo anche senza. La scena in cui si rivela di più è la scena... Io ho visto il film nove volte e nove volte su nove io piango. è la scena in cui il mio personaggio salva la bambina dalle fiamme. Perché lui lì, come dire, in una situazione di emergenza esce fuori la sua natura. Quindi esce in maniera istintiva e non ragionata. Quindi Enzo è quella cosa là. E' emozionante sempre, comunque, ma è emozionante di più sentire il calore delle persone, l'affetto che hanno dimostrato per il film, per questi personaggi, per quello che questo film rappresenta di nuovo nel cinema. E' sempre emozionante quando il pubblico ti premia così tanto. Il Davide, guarda, me lo tengo sul comodino quando dormo. E ci faccio colazione. Me lo porto un po' in giro perché non mi sono ancora ben reso conto. Quindi me lo respiro. Insomma, per due o tre settimane me lo porto per tutta casa. Me lo porto appresso per respirarlo. E poi è bello, devo dire. E' una bellissima scultura. Quindi è bello averlo di fronte sempre. Tu sei G. Daia... Daia...